Sostenere le persone e le famiglie in situazioni di fragilità economica e disagio sociale che vivono nell'ambito territoriale sociale 6 offrendo a loro sostegno sotto l'aspetto alimentare e abitativo è il progetto presentato nei giorni scorsi intitolato reti solidali un acronimo che sta a significare recupero eccedenze territori solidali un progetto della fondazione caritas di fano insieme alla ts 6 la cooperativa contatto e la fondazione banco alimentare con il sostegno della fondazione carifano questo progetto affronta quattro importanti asset di intervento il primo è quello dell'aiuto alle famiglie quindi c'è un supporto economico alle famiglie in difficoltà non solo di fano ma di nove comuni del territorio il secondo è quello dell'intervento sulla povertà alimentare attraverso il recupero delle eccedenze la distribuzione del fresco l'aiuto e la distribuzione attraverso anche la rete delle parrocchie delle associazioni di tutto il territorio il terzo elemento è quello di intervenire nel supportare nel reintegrare attraverso processi di orientamento integrazione al lavoro alcune situazioni di fragilità che si incontrano questi nuovi comuni e il quarto asset è quello della distribuzione di beni materiali dai vestiti ma anche al mobilio attraverso la rete delle caritas delle associazioni sempre per le famiglie intercettate dagli sportelli del progetto solo nel 2022 sono stati 737 i nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità che si sono rivolte al centro per l'ascolto per un totale di 1784 persone di queste almeno 65 senza dimora o con ospitalità temporanea 213 invece le persone che hanno rivolto richieste per bisogni di tipo abitativo per quanto riguarda la mensa sostegno sempre nell'anno 2022 sono stati 3612 i pasti distribuiti a 134 nuclei di cui 59 singoli 75 famiglie e 25 minori a questi si aggiungono coloro che usufruiscono del progetto passamano con la distribuzione di cassette con prodotti ortofrutticoli nei pressi del cotma lo scorso anno infatti sono state 86 mila le cassette consegnate direttamente agli utenti e alle organizzazioni che a loro volta hanno distribuito alle famiglie a loro assistite infine anche il centro rivestiamo che ha distribuito a chi ne aveva bisogno abiti biancherie per la casa e mobilio per richiedere supporto e informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli della caritas di fano il progetto reti solidali ha anche degli aspetti innovativi quali quello dell'uso di alcune nuove tecnologie per scambiarsi le informazioni i dati e la messa in rete ma anche quello di alcune sperimentazioni di innovazioni come quello di provare e verificare che impatto ha ad esempio la mensa diffusa in alcuni territori al di fuori del territorio di fano perché ci sono tante situazioni tante persone tante famiglie in difficoltà che necessitano e che sono impossibilitate anche raggiungere questi luoghi inoltre secondo i dati 2022 il banco alimentare presente su tutta la regione ha assistito nel territorio provinciale di pesaro e urbino attraverso 132 strutture caritative beneficiarie per un totale di 924,4 tonnellate di alimenti distribuiti ringrazio la fondazione carifano per aver colto il valore di questa progettualità un sistema capace di generare risorse e opportunità per un intero territorio che qui sto parlando dei 9 comuni dell'ambito territoriale sociale numero 6 tramite sinergie virtuose tra il pubblico e il privato sociale che è quello di eliminare il più possibile le duplicazioni e le fermentazioni negli interventi ma invece trovare il modo insieme di valorizzare e potenziare le buone prassi che già ci sono sul territorio grazie a tutti grazie a tutti